Realizza sculture in pietra, a basso rilievo in terracotta, solo per passione. È un hobby che coltiva da sempre. Protagonista è il giolese Giuseppe Giocolano, 66 anni, ex custode del Museo archeologico di Gela. Le sue opere attirano l'attenzione per la grande maestria che l'artigiano locale ci mette nel realizzarle. L'auspicio di Giocolano è quello di vedere le sue sculture nei luoghi istituzionali del territorio. È pronto a regalarle, così come già accaduto in precedenza. Tanto tempo fa ne ho donata una alla Procura della Repubblica, quanto il Tribunale, la Procura, si trovava ancora via Mediterraneo, via le Mediterraneo. L'opera che ho donato è stata proprio data veramente con tutto il cuore, perché anche per far vedere che a Gela, malgrado tutto quello che è successo, che succede, che ci sono sempre persone ben disposte e altruisti per poter fare conoscere anche un po' la sua arte. Hai mai pensato di donare una sua scultura anche al Comune di Gela? Sì, ci ho pensato, però diciamo che ancora non ho le idee molto chiare. E se dovesse donare qualche opera al Comune di Gela, quale delle opere realizzate regalerebbe? Ma veramente ce ne sono tante, però c'è il mio figlio che sta pensando a questo, a donare un'opera al Comune di Gela. È un'opera gigantesca, grandissima, che già ne ha parlato con gli interessati che si occupano di queste cose qua. Quindi anche il figlio, diciamo, che porta la stessa vocazione del padre, di donare, di far conoscere. Com'è nata la passione? Ma la passione, fin da bambino, diciamo che ho sempre amato l'arte e quindi facevo olio su tela. Dopo l'olio su tela incominciai a manipolare un po' l'argilla, il DAS, il famoso DAS, poi l'argilla. E vedevo che ci riuscivo molto facilmente, che era una cosa dentro di me, senza che nessuno mi avesse mai detto i medoti, come si faceva, come non si faceva. E quindi sono riuscito prima a modellare, poi con la pietra, con il marmo, incominciai a scolpire e mi veniva sempre tutto facile, senza avere problemi.